Siamo con Giuseppe Ciancio, presidente dell'Alpignano, unica società in Piemonte a mandarne 5 su 5 delle giovanili alle fasi finali. Oggi siamo qua con tre coppe per i tre campionati vinti, due secondi posti che accarezzava il sogno, ma il sogno è ancora vivo. Volevo chiederti cos'è stata per te questa stagione. Eccezionale, eccezionale perché comunque ci puntavamo, perché comunque il settore giovanile lo curiamo molto, ci puntiamo. E quindi se vogliamo ce l'aspettavamo, ma è una cosa che non era sicura per nulla. Però diciamo che siamo contenti per questo. Parlando con i vari responsabili di settore dell'Alpignano, inizio anno è un anno un po' di rivoluzione che arrivava dopo due anni di stop. Quanto è stato difficile lavorare in questi due anni e trovarsi così pronti alla ripartenza? Guarda, io devo dire che do massima fiducia ai miei preparatori, ai miei allenatori e loro la ricambiano perfettamente, perché io se vogliamo non ho grossissimi meriti, tranne quello di tenere la società sempre presente e molto sana come finanziamento. Però diciamo che noi li abbiamo scelti negli anni e quest'anno è stato l'anno migliore, almeno da quando ci sono io che hanno avuto dei bei risultati. Però, ripeto, è sempre una cosa molto molto voluta, ci puntiamo molto sui giovani. L'Alpignano negli anni ha sempre puntato sui giovani un po' meno nella prima squadra, perché poi io penso che sia una conseguenza, quando tu hai i giovani lì forti serve anche a rinforzare la prima squadra, magari non spendendo tantissimi soldi ma rinforzandolo con i giovani. Devo dire che funziona, anzi quest'anno funziona tutto, quindi sono contento. Perfetto. Prese, le due domande più scomode alla fine. Quanti titoli regionali sperate di portare a casa con cinque squadre alle fasi finali? È una domanda da 100 milioni di dollari. Noi speriamo il più possibile, poi ci sono anche gli altri, quindi due sarebbero già buoni su cinque, no? Esatto. L'altra domanda più fastidiosa, si parla di un possibile addio di Omar Ceruti in direzione Chieri. Oltre a cosa se è ufficiale oppure no, ma che cos'è Omar Ceruti per l'Alpignano? Omar Ceruti è stato forse l'artefice di tutto questo, perché addirittura l'anno scorso noi, almeno io, ho dato piena fiducia a Omar Ceruti e a Cristian Bellanova e hanno gestito tutto loro, dalla prima squadra ai bambini della scuola calcio. Per noi è giusto che lui faccia la sua strada, perché non va in una squadra inferiore all'Alpignano, quindi è giusto che lui faccia la sua strada, siamo contenti, anzi lui è stato il primo a dirmelo e io gli ho fatto tanti auguri di una buona carriera, di una bella carriera, perché comunque sicuramente è un salto di qualità per lui. Perfetto, presto, grazie mille, buona festa che deve ancora cominciare. Grazie a voi. E in bocca al lupo per il finale di stagione. Viva il lupo.